Maxi tamponamento verso le 8 lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, in cui sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti. Nello schianto ha perso la vita morendo sul colpo il conducente di uno dei tir, un'autocisterna con targa croata, che avrebbe tamponato violentemente un altro mezzo pesante che era quasi fermo per il traffico sostenuto in quel momento. Questo secondo mezzo a sua volta ne ha tamponato un terzo per fermarsi contro un quarto tir. Ferito il camionista del secondo mezzo pesante. L'incidente è avvenuto in quel tratto di strada che tecnicamente viene definito punto morto fra l'uscita e l'entrata del casello, per cui si è istituita immediatamente l'uscita obbligatoria a Sanstino di Livenza e da lì chi doveva proseguire poteva rientrare nuovamente in autostrada. Sul posto sono giunte immediatamente squadre dei vigili del fuoco da Motta di Livenza, Porto Gruaro, Sandonà e Treviso per la messa in sicurezza dei mezzi. Insieme ai soccorsi del 118, le forze dell'ordine e il personale autostradale. La 4 è rimasta bloccata alcune ore con il traffico consistente in direzione Trieste e lunghe code.